Dialetti d'Italia Per chi vuole imparare l'italiano e desidera viaggiare anche nei piccoli paesi italiani, è importante sapere che in Italia si parlano molti e diversi dialetti. Una grossa divisione si può fare tra i dialetti parlati al nord Italia, al centro e al sud. Ma la verità è che i dialetti variano da regione a regione, da città a città, da paesino a paesino. Ovviamente ci sono delle somiglianze tra i dialetti parlati nelle zone vicine, ma ognuno è unico. I dialetti, come un italiano ufficiale, sono nati da una mescolanza tra il latino e le lingue delle popolazioni che vivevano sul territorio italiano prima dell'arrivo dei romani. Il dialetto toscano è stato scelto per essere la lingua italiana e ha continuato a modificarsi fino a diventare l'italiano parlato oggi. Insieme alla lingua, ogni luogo in Italia conserva usi, tradizioni e piatti tipici tutti da scoprire.